Real. Davide Ancelotti resta per un'altra stagione. Davide Ancelotti, vice del padre Carlo, resterà ancora al Real Madrid. Lo rivela As, che scrive di come il 34N nato a Parma, prenderà in considerazione l'idea di lasciare la capitale spagnola solo nel 2025, ossia alla scadenza del contratto. United. Contatti con T.U.C.H.E.L. per L.I. Panchina. In attesa di decidere il futuro di Ten Hag in Panchina, il Manchester United sta già valutando i profili dei suoi eventuali successori. Secondo la Billy Red Devils, avrebbero incontrato l'allenatore tedesco in quel di Monaco PR verificarne la disponibilità e le idee per un possibile nuovo progetto. Lazio. Nel mirino N.O.S.L.I.N. e Cabal del Verona. La Lazio potrebbe pescare proprio dal Verona, per rinforzare la squadra a disposizione dall'ex scaligero Marco Baroni. Secondo Sport Italia nel mirino dei Bianco Celesti ci sarebbero finiti N.O.S.L.I.N. e Cabal, entrambi sotto contratto con i Veneti fino al 2027. Genoa Tottenham. S.I. tratta per Spence. Il Genoa vorrebbe tenere Spence anche nella prossima stagione, ma c'è da trovare l'accordo con il Tottenham. Il diritto di riscatto da 10 milioni di euro è considerato eccessivo dai Rosso-Blu che vogliono ridiscutere i termini con il club inglese per una nuova stagione. Venezia. S.I. spinge per Vivarini? C.L.O.F.F.E.R.T.A. Salutato ormai Vanoli, molto vicino al Torino, in casa Venezia va avanti la caccia al nuovo tecnico per affrontare la prossima stagione in Serie A. Fonti locali riferiscono che il DS Antonelli avrebbe già presentato un'offerta a Vincenzo Vivarini, tecnico però ancora sotto contratto con il Catanzaro. Lecce. Ecco N.I.K.O.L.A.E.V. Soffiato alle Big Spagnole. Colpo in prospettiva del Lecce di Pantaleo Corvino. I Salentini si sono assicurati Cristian Nicolaev, centrale difensivo bulgaro in forza Olalcorcon, club spagnolo. Sulle tracce del difensore, che giocherà in primavera, Cerano Real Madrid e Atletico oltre a Juve, Everton e Leeds. Bayern, vicino P.A.L.H.I.N.H.A. S.I. tratta col Fulham. Il Bayern Monaco è tornato alla carica per Joao Palimia, centrocampista del Fulham, già cercato con insistenza lo scorso gennaio. E adesso il corteggiamento ha elevate probabilità di andare a dame. I contatti tra le parti, rivelano da più parti sono costanti. Il portoghese spera che tutto venga completato entro l'europeo. Fino ad ora, scrive Fiatletic, i bavaresi non si sono spinti oltre quota 35 milioni di euro. Palimia ha collezionato 79 presenze in prima squadra con il Fulham in due stagioni, segnando otto gol. Milan. Due big di Premier non mollano ZI, RK, ZEE. Arsenal e Manchester United non mollano Zirksi. I due club della Premier League, riferisce Sky Sports News, stanno monitorando l'evolversi della situazione legata all'attaccante del Bologna, su di lui è forte il pressing del Milan. Milan attento! C'è Leverton su BROI lunga A. Il Milan dovrà fare i conti con Leverton per assicurarsi Armando BROIA, punta in uscita dal Chelsea. Il club di Liverpool, riferisce Ben Jacobs, sta trattando con i Blues per chiudere un trasferimento da 30 milioni di sterline. D-U-M-F-R-I-E-S, può lasciare L-I-N-T-E-R. Piace a L-L-A-S-T-O-N-Villa. Denzel Dumfries, potrebbe lasciare L-Inter in questa sessione di mercato. Secondo quanto scrive tutto sport infatti l'olandese piace agli inglesi dell'Aston Villa. E l'assist all-Inter, potrebbe arrivare dai cugini del Milan, visto che i rossoneri hanno nel mirino Mati Cash, terzino destro proprio dell'Aston Villa. Coi soldi del polacco, il club di Premier potrebbe virare su Dumfries. L-A-T-A-L-A-N-T-A sulle tracce di Zaniolo. Non c'è solo sulle tracce di Niccolò Zaniolo, fantasista di proprietà dell'Aston Villa. Secondo Alfredo Pedulla anche L-Atalanta di Gasperini, si sarebbe iscritto alla corsa per l'ex Atalanta. Brighton. SI tratta con H-U-R-Z-E-L-E-R, può essere il successore di De Zerbi. Orfano di De Zerbi, il Brighton è ancora a caccia di un nuovo tecnico. Il club inglese avrebbe identificato in Fabian Urzeler il successore perfetto dell'allenatore italiano. 31-N tedesco, è sotto contratto con il ST, Pauli. In queste ore il Brighton sarebbe in trattativa con il club teutonico, per stabilire l'entità dell'indennizzo utile a liberare il promettente tecnico nato in America. Juve. Sirene saudite per Szczesny. Con l'arrivo di Di Gregorio, la Juventus si prepara a fargli spazio tra i pali. L'indiziato numero uno a salutare tra i pali, è l'ex Roma Szczesny. Secondo relevo sul polacco c'è da registrare l'interesse di Lalnas, club saudita nel quale milita anche Cristiano Ronaldo. Zeman non è sei ferma e annuncia. Voglio tornare a diallenare. Sto meglio. Piano piano voglio tornare a fare quello che amo che è allenare. Così Zdenek Zeman, ex tecnico del Pescara, sul suo futuro a margine di un evento tenutosi ieri nella cittadina abruzzese. H.E.R.M.O.S.O. Vicino alla Serie A? Il Napoli spinge. H.E.R.M.O.S.O. Non c'è solo buongiorno nel mirino del Napoli per la difesa. Gli azzurri sarebbero vicini a ingaggiare Mario Ermoso, duttile difensore in scadenza con L Atletico Madrid il prossimo 30 giugno. Per lui sarebbe già pronto un triennale. Decisivo l'arrivo di Conte in panchina. Ilunga U.R.I.C. Noa L.L.A.R.A.B.I.A. L.H.A. Ilunga D.U.K. Spalato lo tenta. Fresco dedio al Torino, Ivan Juric è intenzionato a tornare subito in pista. Il tecnico croato avrebbe detto no a una ricca proposta arrivata dall'Arabia Saudita. Più facile che accetti la corte dell'Aiduc Spalato che sta cercando di convincerlo a tornare in patria. Milan e Atletico Madrid su D.O.R.G.U. del Lecce Patrick Dorgu è uno dei gioielli del Lecce targato Corvino. Il laterale classe 2004, blindato dai Salentini fino al 2027, piace molto a Milan e Atletico Madrid, non è da escludere un assalto già in estate. Anche il Napoli sta monitorando la situazione. Manchester United, Bruno Fernandes può partire. In un momento storico difficile per il Manchester United, l'ex Novara Bruno Fernandes è uno dei più positivi dei Red Devils. Il nazionale portoghese ha sempre sfoderato prestazioni di alto livello, ma secondo il Mirror non è più intoccabile. Per il quotidiano inglese con un'offerta da 70 milioni di sterline e la società potrebbe cederlo. Milan sulla fascia? Emerson Royal può arrivare. Tra gli obiettivi del Milan nel mercato estivo c'è da rinforzare la fascia destra. La società rossonera vuole un giocatore di qualità e tecnica e il prescelto è Emerson Royal del Tottenham. Gli Spurs chiedono almeno 20 milioni di euro. Cifra che secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe decidere di investire. Napoli su Buongiorno. Incontro tra Conte e difensore. Antonio Conte ha chiesto Alessandro Buongiorno del Torino per rinforzare la difesa del Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riporta TuttoSport, nei giorni scorsi i due si sarebbero incontrati nel capoluogo piemontese, casualmente in un ristorante, e il tecnico avrebbe ribadito la propria stima al difensore. Tutto però è bloccato fino alla fine dell'europeo. Juve. SI insiste per Calafiori. La Juventus vuole Riccardo Calafiori, ma la trattativa se decollerà e destinata a entrare nel vivo solo dopo l'europeo. Il Bologna non vorrebbe cedere il difensore, che se vorrà lasciare il rosso-blu dovrà portare una ricca offerta. Il Corriere dello Sport parla di 45-50 milioni di euro. Lazio. Lotito. Prenderemo quello che serve a Baroni. Si prenderà ciò che serve per il modulo di Baroni in base a quello che potremo fare. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito sul messaggero sul mercato. Così il spirito.